Ciao a tutti YouTube, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video, siamo qui in questo video super flash dove vi devo dire delle cose velocissime ovvero che il 30 giugno mi troverete in giro al Pride di Milano, il Gay Pride di Milano sarà il mio primo Gay Pride perché non ho mai partecipato a manifestazioni del genere e visto che ci andavano alcune mie amiche, tra cui probabilmente Anna e altre mie amiche che poi conoscerete e ci verrà anche la mia ragazza, ho pensato di andarci anch'io quest'anno la prima volta e per l'occasione ho fatto le magliette apposta, come voi sapete quest'anno è uscita la grafica nuova, tra l'altro disegnata da Francesca e abbiamo fatto una versione di edizione limitatissima che potete trovare soltanto per altri due giorni in modo che poi vi arriverà in tempo per il Pride se verrete, dovete indossarla, venire da me, incontrarmi e chiunque beccherò con la mia maglietta in edizione limitata mi farò una foto perché sarà un'esperienza molto più unica che rara diciamo infatti me la sono comprata anch'io da sola, mi sono comprata da sola la maglietta in edizione super limitata quindi mi raccomando in descrizione trovate il link per acquistarla, avete solo due giorni e pochissime ore e vi arriverà il prima possibile, quindi prima l'acquistate ovviamente, prima vi arriverà e non vedo l'ora quindi ragazzi ci vediamo il 30 giugno al Pride di Milano, sarà il mio primissimo Pride spero di incontrare tanti di voi, ho fatto un sondaggio su Instagram, circa 600 persone avevano risposto che sarebbero venute quindi spero che sarete tantissimi, mi raccomando indossate la mia maglia e venitemi a cercare beccatemi perché voglio farmi una foto con tutti quelli che ce l'hanno, sarà un'esperienza bellissima ringrazio Francesca tra l'altro che mi ha disegnato la nuova grafica Strafiga, mi piace un sacco infatti penso che stasera la indosserò per uscire e niente, questa edizione è limitatissima, sarà presente su Tisly solo per altri due giorni mi raccomando, lasciate un bel like a questo video, condividetelo, ci vediamo al Pride e spero di incontrare tanti di voi perché mi mancate tanto e vi voglio bene e niente, grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ragazzi